buongiorno milano venerdì 23 ha smesso di piovere dopo che ieri da prada abbiamo veramente preso un sacco di acqua e di freddo sono nel quartiere bovisa e sto andando a vedere cosa succede fuori dalla sfilata di gucci che per la prima volta da qualche anno a questa parte non sfida nella sua sede storica in via mecenate ma qua in via cosens alla bovisa quindi andiamo a vedere cosa ci offrirà lo street style fuori dalla sfilata di gucci ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.